Siamo in piazza Biroldi a Giubiano nel cuore di una delle castellanze più celebri di Varese anche per la presenza dell'ospedale del ponte cioè dell'ospedale della mamma e del bambino. In questo momento ci sono lavori in corso per la nuova piazza che sarà nuova in tutti i sensi perché dopo tanti anni finalmente le auto verranno tolte completamente, la piazza diventerà pedonale, ci sarà anche una grandissima aiuola davanti alla vecchia entrata dell'ospedale del ponte e il rione, questo è l'intento, nascerà a nuova vita. Naturalmente i lavori che stanno continuando ma che dovrebbero terminare almeno per quanto riguarda la pavimentazione tra pochissimi giorni hanno causato qualche problema anche a chi lavora nella piazza ma naturalmente anche ai cittadini che devono andare in ospedale e che hanno faticato ad abituarsi a parcheggiare nel nuovo multipiano di via Bixio. I lavori comunque procedono e sono diciamo uno dei punti essenziali all'interno del grande piano stazioni che prevede poi come sapete tanti lavori in piazzale Kennedy e davanti appunto alle due stazioni.